Oggi invece diamo il via all'indagine sul fattore umano in merito alla caduta del volo US Airways 1549. Ammaraggio. Comandante? L'aereo non è caduto, non è stato un ditching. Sapevamo quale manovra cercavamo di eseguire, non siamo caduti, è stato un ammaraggio intenzionale. Perché non siete tornati alla guardia? È semplice, non avevamo sufficiente quota. E Lutson era l'unico posto sufficientemente lungo, liscio e largo per un atterraggio in sicurezza. Secondo il controllo traffico, lei ha detto che stava tornando alla guardia, ma non l'ha fatto. Ho capito che non ce l'avremmo fatta e che stavo eliminando le alternative. Tornare alla guardia sarebbe stato un errore. Cerchiamo di capire come avete calcolato questi parametri. Non c'era tempo per fare calcoli. Mi sono affidato la mia esperienza sulla gestione di altitudine e velocità in migliaia di voli per più di 40 anni. Cioè non ha fatto alcun... Ho calcolato a vista. Ha calcolato a vista? Sì.